Buongiorno ragazzi, oggi voglio parlare di transistore e per farvi vedere per quale motivo delle volte il segnale di uscita viene preso dall'emettitore e alcune volte viene preso dal collettore. C'è un perché dietro questa scelta, andiamo sull'oscilloscopio e sulla carta, vi faccio vedere, andiamo, grazie. Abbiamo sempre visto vari modi di utilizzo di un transistore. Delle volte il segnale di uscita viene preso dal collettore e alcune volte dall'emettitore. Però questa scelta è un caso oppure dietro questa scelta esiste un perché? Devo dire di sì. Innanzitutto spiego a breve che cos'è un transistore. Un transistore è un componente elettronico utilizzato per amplificare o commutare segnali elettrici, composto da tre terminali quali base, emettitore e collettore. Abbiamo due tipi di transistore. Perciò un transistore BJT è composto da tre terminali che sia NPN o PNP a terminale base, emettitore e collettore. Effettivamente nel transistore PNP la freccia è al contrario sull'emettitore e sull'NPN la freccia è verso fuori sempre sul emettitore perché ognuno di loro ha un modo di attivazione diverso rispetto all'altro, che in un video precedente l'avevo già spiegato questo modo. Però ciò che ci interessa in questo video è il modo in cui viene preso il segnale perché o viene preso dal emettitore o dal collettore. Esistono due modi per prendere il segnale dopo il transistore. Il primo è l'emettitore comune, che è una configurazione in cui l'emettitore è collegato a massa o a un riferimento comune. Il segnale di ingresso è applicato alla base e il segnale di uscita è prelevato dal collettore. La seconda configurazione si chiama collettore comune. Nella configurazione a collettore comune il terminale del collettore è connesso direttamente o tramite un componente tipo un resistore all'attenzione di alimentazione, mentre il segnale di ingresso è applicato alla base e l'uscita è prelevata dall'emettitore. Questa configurazione è anche chiamata inseguitore di emettitore perché la tensione di uscita all'emettitore segue la tensione di ingresso alla base con una differenza di circa 7 decimi di volts, che sarebbe caduta di tensione base-emettitore. In questo video ci dedichiamo alla prima configurazione, cioè l'emettitore comune, e la seconda configurazione sarà spiegata nel prossimo video. Per provare a vedere che cosa accade sull'oscilloscopio ho fatto un semplice circuito. Il circuito è composto da un transistore NPN di 880, base-emettitore e collettore. Emettitore è collegato a terra con un resistore a 22 Ohm. Il collettore è collegato al VCC, oppure 12 volts, l'ho scritto qua, con una resistenza a 5K e la base è collegata al generatore di segnali con una resistenza a 150 Ohm. Qua, insieme al generatore dei segnali, ho attaccato anche il primo puntale dell'oscilloscopio e qua, tra la resistenza e il collettore, ho attaccato il secondo puntale dell'oscilloscopio per vedere effettivamente che cosa sta succedendo. Di questi valori avevo parlato in un altro video. Per chi vuole sapere che cosa sono e che cosa vogliono dire, lascio il link qua sopra. Vediamo sul breadboard anche. Questo è il nostro transistore, base, collettore ed emettitore. Perciò il pin 1, 2 e 3 sono base, collettore ed emettitore. Alla base ho applicato questa resistenza 150. Al collettore ho collegato questa resistenza 5K, che a sua volta è collegata alla tensione 12V, che lo prendiamo dall'alimentatore da banco, ed emettitore, che sarebbe il terzo, è collegata a massa con resistenza a 22 Ohm. Ora andiamo sull'oscilloscopio e accendiamo per vedere che cosa succede. Ecco qua, sul banco di lavoro ho montato tutto, è un po' incasinato, ma sul foglio l'avevo spiegato. Questi due sono due puntali, uno è generatore di segnali, l'altro è il primo canale dell'oscilloscopio, questo è il secondo canale dell'oscilloscopio, è collegato alla resistenza di collettore. E questi sono tutti i negativi, sia dell'alimentatore del banco, oscilloscopio e generatore di segnali. E questo è il 12V positivo. Ecco qua sul generatore di segnali, 1KHz di frequenza, la tensione massima 3V, la tensione minima è 0V, e abbiamo un picco picco 3V, l'onda è quadra, andiamo a vedere che cosa succede sull'oscilloscopio. Il circuito è acceso, Prima di iniziare a spiegare, il colore giallo è il canale 1 dell'oscilloscopio, collegato alla base, cioè il segnale di ingresso, che sta attivando la base, e il canale blu è collegato al collettore, che sta amplificando il segnale. La cosa da notare è che nella configurazione ha l'emmettitore comune, abbiamo il guadagno di tensione, come vedete, questo è l'ampiezza del segnale di ingresso, e questa è l'ampiezza di segnale di uscita sul collettore. Il guadagno di tensione è semplicemente il rapporto tra la tensione di uscita e quello di ingresso, perciò il rapporto tra questo e questo. In un emettitore comune, questo valore dipende dalla resistenza di carico e delle caratteristiche del transistore. Come si vede, l'ampiezza del segnale di uscita, cioè questo blu che vedete, è maggiore di quella del segnale di ingresso, cioè questo giallo. La seconda cosa da notare è l'inversione di fase, che è una conseguenza del funzionamento del transistore. Quando la tensione di ingresso alla base aumenta, la corrente di collettore aumenta. Tuttavia, la tensione di uscita al collettore diminuisce, perché la caduta di tensione sulla resistenza di collettore aumenta, e il risultato appare in modo che il segnale di uscita si inverte rispetto a quello di ingresso. E come qua vedete benissimo, mentre il segnale di ingresso è basso, il segnale di uscita è alta. E qua, quando il segnale di ingresso è alta, il segnale di uscita è invertita e è andato giù. Perciò, un'altra cosa da notare nella configurazione l'emettitore comune è l'inversione di fase. A questo punto, è arrivato qua, mettendo la prima spiegazione insieme alla seconda, osserviamo che il segnale è amplificato in tensione, ma invertito di fase rispetto al segnale di ingresso, cioè sfasato di 180 gradi. Se il segnale di ingresso è troppo grande, potremmo vedere anche una distorsione oppure clipping del segnale di uscita. L'altra cosa ancora da dire è la risposta in frequenza in questa configurazione si spiega che a bassa frequenza il segnale di uscita è stabile, mentre ad alte frequenze il guadagno diminuisce e potremmo vedere uno sfasamento aggiuntivo. Questo comportamento è dovuto alla capacità parassite del transistore e del circuito che limitano la risposta di frequenza. Però, quando non si usa la configurazione emettitore comune, se il carico richiede una tensione precisa e stabile, oppure se avessimo bisogno di un'amplificazione lineare molto precisa, in questi casi si potrebbe optare per configurazioni più complesse, ad esempio emettitore comune con retroazione, che lo spiego nel prossimo video. In sintesi, collegare il carico al collettore è una scelta ottimale quando hai bisogno di controllare carichi ad alta corrente, oppure isolare il segnale di controllo, amplificare segnali o realizzare circuiti semplici ed efficaci. È una configurazione versatile e ampiamente utilizzata in elettronica. Va bene, ragazzi, insieme abbiamo visto un'altra cosa, spero sia stato utile. Se avete delle domande, fatemele nei commenti. Nel prossimo video vi spiego la seconda configurazione. Grazie per avermi ascoltato e visto. Buona giornata e alla prossima.